Salve a tutti e bentornati in questo nuovo tutorial ragazzi In questo nuovo video vi spiego come aumentare la luminosità e il contrasto su qualsiasi gioco Ovviamente sto facendo il tutorial sul gioco Apex Legends Quindi in questo caso funziona su tutti i giochi Però alcuni giochi non supportano questo filtro Quindi va fatto direttamente nel gioco Quindi in questo caso se il gioco ha come video luminosità Lo mette al 50% però se lo mette a 100% Luminosità è molto alta e vuoi aumentare così la luminosità Ovviamente su OBS Studio non potete vederla Però se io adesso vado un attimo a premere Alt più Z con GeForce Experience Quindi GeForce Experience te l'ho lasciato in descrizione come link Tu clicchi sopra, lo scarichi e lo installi E una volta installato come voi vedete in alto a destra C'è un simbolo Questo è GeForce Experience che sta catturando tutta la schermata Tutta l'interfaccia, tutto il gioco Quindi se adesso vado a fare Alt più Z Vado su filtro giochi Vado su filtri Metto uno Aggiungi filtro Scendo fino a giù fino a trovare qualcosa Che mi dia un po' di bianco e nero Oppure qualcosa tipo come Esposizione e contrasto Fatemi cancellare il colore Fatemi cancellare questo filtro bianco e nero Esposizione e contrasto Quindi qui c'è l'esposizione Io aumento l'esposizione Aumento pure il contrasto Ok Aumento pure le luci Ombre E la gamma Torni indietro Ed ecco Apex Legends Un po' più luminoso Con un po' di contrasto E quindi se questo video ti è stato utilissimo Su come migliorare un po' la qualità Su un gioco grazie alla luminosità E il contrasto Le ombre La gamma con GeForce Experience Iscriviti, lascia a like E noi ragazzi ci vediamo Ad un prossimo tutorial Ciao